Ciao amici di MrGadget.tec, oggi vi presentiamo un dispositivo che rappresenta uno strumento di lavoro perfetto per le scuole e per le attività educational in genere. Stiamo parlando di un dispositivo molto interessante, quello che vedete che stiamo utilizzando anche noi in questo momento, ovvero Idea Hub Board, una vera e propria lavagna interattiva che rappresenta la sintesi di molteplici tecnologie in un unico grande schermo. Huawei Idea Hub Board esiste in due versioni da 65 o da 86 pollici e può essere usato con un'installazione mobile su un carrello o posizionato a muro. Come anticipato, Idea Hub Board si adatta perfettamente ad un uso didattico perché è pensato proprio considerando le esigenze delle scuole. Ma cosa sa fare esattamente Huawei Idea Hub Board? È prima di tutto un grande schermo interattivo touch. È una lavagna su cui è possibile scrivere. È un centro di comunicazione multimediale. È un prodotto smart con sistema operativo Android. È uno strumento professionale con la potenza di Windows 10. Ma la forza di questo grande schermo interattivo multimediale sta anche nella sua attenzione per il benessere di chi lo usa, con una serie di soluzioni pensate per rispondere ad esigenze molto precise. Spesso gli studenti, quando devono guardare lungo lo schermo, si lamentano della stanchezza agli occhi. È per questo che Huawei Idea Hub Board è stato costruito con un filtro per la luce blu che integra quindi una funzionalità molto importante. Grazie a questa soluzione, infatti, viene eliminato il 60% delle radiazioni emesse dallo schermo. Non solo perché la luce blu dannosa viene traslata su frequenze che sono meno fastidiose per la vista e tutto ciò è anche certificato da un istituto che conosciamo molto bene che è TUV Rheinland. Questo permette di non affaticare la vista e salvaguardare anche la salute degli studenti. Allo stesso tempo, però, grazie a questa tecnologia, viene mantenuta anche una resa cromatica corrispondente alla realtà, anche quando si guarda da un'angolazione molto forte. Pensate che si arriva addirittura ad un angolo di visione di 178 gradi. Quando si usa uno schermo comune in una classe, dove si è costretti a leggere da grandi distanze, spesso le parole sullo schermo sono quasi illegibili, soprattutto per chi sta più lontano. Huawei Idea Hub Board è costruito con una definizione superiore. 4K con un contrasto elevato, che rende le immagini e i testi più visibili e più leggibili anche da lontano. La leggibilità è resa ancora migliore dall'angolo di visione molto ampio, da 178 gradi, che permette di guardare anche da una posizione molto angolata, mantenendo intatta la qualità del colore. Grazie al trattamento anti-riflesso, lo schermo risulta leggibile anche in ambienti molto luminosi. La luminosità di Idea Hub Board viene regolata automaticamente in funzione dell'ambiente in cui ci si trova, per avere sempre colori brillanti e testi leggibili anche da lontano. Sarebbe utile risolvere una questione di lungo corso. I miei studenti spesso si lamentano di non riuscire a leggere la mia scrittura quando lascio appunti alla lavagna. A me sembra bellissima. Uno dei punti di forza di Huawei Idea Hub Board è proprio la sua capacità di trasformare il testo scritto a mano in caratteri standard, più leggibili, con cui si possono fare tutte le operazioni più comuni, come il copia e incolla. Non solo, perché Idea Hub Board è una vera e propria lavagna interattiva, su cui è possibile scrivere come si fa con un gesso su una lavagna normale, oppure disegnare e operare con la penna intelligente. Avete già visto come venga trascritto quello che viene scritto a mano in testo che si può anche copiare e incollare? Ma non solo, perché si possono anche trasformare i disegni in forme geometriche precise. E non è solo questo, perché ci sono due penne con cui è possibile lavorare contemporaneamente, aumentando quindi l'interattività che si può utilizzare con la lavagna. Un sistema davvero molto avanzato, anche per l'interazione tra insegnanti e studenti, che funziona molto molto bene. E oltre a questo è possibile scrivere anche su ciò che viene proiettato dall'esterno. Ricapitolando, Idea Hub Board è capace di trasformare i disegni in forme geometriche, così come permette di prendere degli appunti o scrivere sulle immagini e sui video che sono trasmessi da un computer. Con gli strumenti tradizionali è difficile riuscire a combinare l'uso di una lavagna interattiva con la didattica a distanza, mentre a volte collegare computer o smartphone è un po' complicato, poco intuitivo. Questo in realtà è un altro punto di forza di Huawei, Idea Hub Board, perché collegare computer, smartphone oppure un telefono è estremamente comodo senza mai utilizzare dei cavi o dei fili. Non solo, perché una volta terminata una lezione, Huawei Idea Hub è capace anche di condividere quanto è scritto sulla lavagna, gli appunti o semplicemente insomma tutto ciò che è stato fatto sulla lavagna attraverso un QR code oppure con una semplice distribuzione via email. Adatto anche alla didattica a distanza, quando le classi sono in parte in presenza e in parte da remoto. Idea Hub può essere anche controllata a distanza e può essere utilizzata con due sistemi operativi, ci sono sia Windows che Android. L'esperienza in classe con Idea Hub mi è piaciuta particolarmente perché in un solo strumento sono concentrate diverse piattaforme e diverse soluzioni tecnologiche. Supporta le applicazioni maggiormente utilizzate in Italia per la didattica moderna, con la massima compatibilità tra i diversi sistemi. Anche noi abbiamo imparato nel giro veramente di pochissimi minuti a usare Idea Hub Board in modo molto intuitivo. Ci sono due versioni da 65 e da 86 pollici con definizione 4K, una leggibilità anche alla luce diretta del sole davvero notevole. Per tutte le informazioni su Huawei Idea Hub Board cliccate qui sotto o nell'articolo su mrgadget.tech anche per conoscere le condizioni di vendita. Ci ritroviamo prestissimo su mrgadget.tech per un altro approfondimento e già che ci siamo torniamo a scuola. A presto!